Ciao ragazzi bentornati in un nuovo video Oggi siamo su gt online con delle gare abbastanza strane E io naturalmente per questi episodi vi chiedo un paio di like Non c'è bisogno Però naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su twitch Perché su twitch alle 21 di solito portiamo queste gare e molto altro ancora Quindi seguitemi su twitch E noi ragazzi ci vediamo in video Ok ci sono eh regga Che cosa dobbiamo prendere La 6x6 dubsta La 6x6 dubsta Che cazzo è sta cosa Magari io bestemmi acquitto Eccolo Ma che è sta roba Ma che cazzo è Mi è piaciuto Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Devo capire come fare per girarmi L'ho fatto Come è fatto Dove si è andato Ma dove si è andato Ma dove si è andato Ah lo scemo Ah sotto Possibile Rispone vi faccio vedere Eh vai Vai ma te facci vedere Rendici illustri di questa cosa Devi andare dritto per dritto qua Non lo so Ma che cazzo stai a fare Aspetta Ah lì sotto Ma che trollato No Non cazzo sono Sono vivo Eh io no Ah Come come Ok No 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 Ok Aspettatemi Aspettatemi Degni tanto qua ci vuole mezz'ora Quindi No Matteo Cazzo Eccolo lì Devi fare pure il driftino Parliamone signor cornicione Parliamone Dai Un po' di spazio dopo Sì o che Fornicione Direi che Andate come deve andare Occhio vedri Zitto Devi fare al contrario quindi Ah lì ti conviene che giri a destra E la fai Ok Perché non in avanti Perché se no vedi che Il coso La striscia di sinistra È più bassa E quindi ti cade per forza La macchina Ma che cazzo Dici che va bene? Sì Non farla tutto D'una botta Prima ci cadi lentamente E poi quando ti rendi conto Che sei giusto Ti eri come un malato No Vai Scugnese Vai vai Ah 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 Dariele Mi hai preso Grande Daniele Guardiamo Daniele Perché Vai Vai appunto andiamo avanti perché dici di andare a sinistra se voglio andare a destra o cazzo dai dai cazzo no 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 daniele ma c'è una botta devo riuscire ad arrivare una botta per farmi scendere ci sono arrivati vai 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 in retromarcia vai in retromarcia oh ma aspettate vai in retromarcia no mi deve dare una botta per arrivare al checkpoint che è perché mi sono incastrato ma li mannaggia dovrei resettare ma non lo faccio no 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 ok l'ho preso puro controlla le impostazioni di connessione della google no in penna ma te magari me la date una botta mi sposta me la data una botta magari me la date una botta no volevo stare dentro matteo mannaggo cosa? mi faccio spazio raga tocca a me tocca a me vai pulgas e vai no no c'è un buon ride c'è un buon ride daniele grazie muoviti daniele muoviti daniele secondo me è un troll comunque ma si va da qua daniele sopra la mamma del creatore 66 quanti ne fa di buchini ma guarda 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 ma famosa non abbiamo visto no vabbè ecco la smatanga andiamo a città fedeli scendi a mano a questo punto si bella boys ma fai schifo raga io non non perdo tempo io faccio il tubo velocemente volo via faccio vedere io come si fa che fai e daniele voglio vedere anche io no no ma non glielo ho citato più di te daniele città più di te sono già il checkpoint ma cosa vabbè il tipo! ciao daniele maniera voi volete fare le cose troppo troppo difficili e vademi di culo vi faccio vedere io come si fa vuoi Più o meno Ho vinto Ma come? Dai Sei